Innanzitutto continuità sulle tante iniziative che abbiamo in corso e poi, come ho già detto tante volte, abbattere definitivamente le liste d'attesa. La nostra sanità è la migliore. Dobbiamo eliminare questa piccola ombra che è determinata dai lunghi anni di Covid che hanno purtroppo impedito agli ospedali di lavorare a tempo pieno. Il Ministro Servine ha chiesto di investire i grandi appuntamenti che ci aspettano. Noi abbiamo tanti progetti, anzi, se verrò rieletto, credo che una delle prime cose sarà incontrare il proprio Ministro Salvini per fare un piano organico di tutte le opere pubbliche. Quelle che facciamo noi, quelle che fanno loro, in modo di coordinarci e fare un lavoro organico. Presidente, i rapporti di forza tra partiti saranno molto diversi rispetto al 2018? Sta ragionando sulla Giunta che si sta pensando a un fratello d'Italia come Vicepresidente? La Russia, per esempio. Guardi, non penso a niente perché non abbiamo ancora vinto. Quando avremo vinto ci incontreremo con i partiti e faremo i ragionamenti che si dovranno fare. Quello che ho già detto e che ripeto per l'ennesima volta non c'è mai stato un problema all'interno della nostra maggioranza legato ai numeri. C'era un partito più forte degli altri negli ultimi cinque anni, ma questo non ci ha impedito di ragionare sempre, di decidere sempre in maniera condivisa e senza nessun tipo di problema. C'è qualche nome dei suoi tuoi assessori che riconfermerebbe? Te piacerebbe almeno? Tutti li riconfermerei. Tutti li riconfermerebbe? Tutti li riconfermerebbe? Tutti li riconfermerebbe? Grazie.